Ragazzi se avete bisogno di crediti passate da fifacoin.com il sito più sicuro al mondo Scegliete il vostro taglio, inserite il codice Lazza per avere un 5% di sconto E nel caso foste bannati vi rimbosseranno tutta la spesa Oh ragazzi sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui tornati tutti assieme con i premi di Division Rivals e V Champions Assieme a Om Ciao ragazzi E tattino il 23 Bello ragazzi Ragazzi oggi abbiamo da aprire due account di Goldone Ovvero uno più però ragazzi ci rimangono i pacchetti con gli garantiti di stiamo la scorsa Che non siamo andati ad aprire perché appunto c'era un tipo di merda Infatti oggi ragazzi devo aprirlo visto che c'è Lionel Messi nel team of the week 97 di overall Eccolo qui ragazzi mamma mia che carta che sta intorno ai 3 milioni se non sbaglio sul mercato Eccolo qua ragazzi intorno appunto ai 3 milioni E poi ragazzi voglio farvi vedere un'altra ultima chicca del team of the week Nel caso non trovassi Messi che do il contentino con Samuele Castiglieco Quindi ragazzi mi raccomando cerchiamo di aggiungere subito i 5 mila mi piace Vi faccio vedere anche i premi settimana prossima In iscrizione troverete social di shop codice razza 15% di sconto perfetto come questo qui del Barcelona Ed inoltre per i vostri crediti passate da tifacom.com codice razza 5% di sconto Detto questo ragazzi direi di partire subito con i premi Ora partiamo dalla divisione rivals Come sempre il nostro amico Johnny vuole premi non scambiabili Quindi scambiabili Si volevo dire i premi scambiabili Quindi un po' che giocatori rari e un pochetto giocatori Zinco vai Andiamo a più di subito Dati vuoi prendere la zinco vai Apri lo zinco Dati Mi prendo la responsabilità Mi fido Dati mi fido Fatemi vedere un bel workout Niente workout Che cosa è però Come vedere Le buono la stessa Johnny Eh sì 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 Cicci Eh sì sì Cicci Caccia e forte Cicci Eh sì 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 Vai 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 Apri il pacchetto giocatori rari No vada da quella sinistra Quella sinistra Quello dopo Quello dopo rega esatto 50k Eh niente Eh ma si sta scaldando la consola C'è piano piano Vedi il nuovo giallo No c'è stato di mappia Fala scaldare comunque Eh beh Dove vorrei dire Voglio spacchettare Giuliano Giuliano Che c'è mano Ah ok Siamo subito con i pick Quanto ha fatto Stefano Ora 1 Ora 1 Si è fermato perché non c'era tempo per giocare Però comunque un buon risultato Rega Partiamo con il primo pick Appoggio il patto Siamo Bello Questo qua il pick basso Teoricamente dovrebbe esserci il pick alto a sinistra Eh Tente ho detto teoricamente Ho detto che c'è il pick alto Ovviamente Fatevi vedere Madonna mia Quando ho visto il inizio C'è la mossa Della Portoghese Portoghese Ramos Cisco 89 Buono dai ci sta Con la maglia dell'Inter Eh se Fabricas transfer Verner 84 Quanto vi è stato avuto Adesso Adesso è che la 100k Dell'oro unico Sia sempre 82 Certo Dai ci sta come pacchetto Ultimo pacco per me Accetta capo Poi proseguiamo Con gli if Oh Back to back Workout Credibile Niente if Però Eh Spagnolo ancora Dici Rambo stavolta Dai Sì Inserdito Serdito Rap 91 154 200 Sì O meno A beh Ci sta rega Anche questa settimana Comunque non c'è andata male Su questo accanto Nonostante Loro 1 Che giorni Oh Benzema Fa il cow Dai cavolo Che pacchetto Vediamo Boom 200k easy Rega Ci sta Ci sta Buono 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 Andiamo tutto Il club Salvi Qua Scartiamo E ora ragazzi È vostro turno Io non voglio Io non voglio Saperne niente Dati Se non esce Il walkout È colpa tua E scusa 3 su 3 Walkout Dai Mi ha fatti 2 su 3 Per Sono Back to back 1 2 3 Ok Back to back Back to back Argentina 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 Madonna mia Rosa Mannaggia Mannaggia 84 Zaha Vabbè Rega Vediamo Quanto Milano Zaha 50k Puliti Dai Andiamo Qua Tutto Il club Om Ora Se non Trova Il Guardato Il Tuo Stare Giorno Back to back To back Non ho paura Vediamo Perché Un Can Ti prego Argentina 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 La pulga La pulga La pulga Niente Salcio No 52 Difensare Centrale 85 Tarakoski Questo è buono Alla basta Buono Da scartare Da 85 Inglesi Prende No Di prezzo Buono Fala Compra 20 12 Si 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 Adesso Ragazzi Ci Trasferiamo Sul Mi Account E Vediamo Cosa Esce Ok Ragazzi Ci Siamo Mi Account Tac Tac Andiamo Subito Con Le Jonas Come Sempre Lui A Tt A Provincia Caserta Mi Ho Detto Non È Più In Provincia Nel Apple Ragazzi Voi Va Bene Ma Quello Che Vuoi No Schip Pagnotta Non Dove Schip Bello Banega La Figlia E Danilo Il Bidello Tati Questo E Perché Scusa Con La Cimera K E Bono No Tati Vai Sull'altro Faccio Una Promessa Allora Nel caso Dovessi Trovare Lui Nei Pic Metto Una Canzone Con Il Copyright No No Bello E Voi Cosa Da 50 K Dai Italiano Portiere Salvatore Tati Salvatore Si Chiamano Ragazzi Oro 1 Ecco Qui Un Big Da 4 Come Sempre 5 100 K E 50 Mila Crediti Canzone Con Il Coppia Adesso Più Quello Dopo No Parti Adesso Per Arrivare A Quello Dopo Ok Vediamo Camò 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 Subasic Develofeu O Antonio No Antonio No Subasic Develofeu Subasic Lo Scarti Develofeu Vedi Se Se Ci Giochi Develofeu Se Sono Mai Sub Adesso Prendono Fensi Ci Hai Già Partire Di Sab Ci Dove Ragazzo Da Consuma Sic Però Voglio La Canzone Drop Con Lo Canzone Con Copywriter Ti Prego Lione 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 C'è Chi Sono Moncini Grifo Ben Arma E Vermeer La Presenta Roca Di Verne Tino Ma Si Prendono Italiano Italiano Città Vereno Prendere Lo Stesso Ragazzi Andiamo Tutto Art Club Ometto Vasco Rossi Si Trova Un Volta Liga V Scusa Liga V No Devo Metterlo Segnamente Ehi Ferri Ti Prego Si Tira Polacco Ti Raga Qui Secondo Me La Punizione La Batte Sotto La Barriera No Non Sa Fare Impara Stasera Tra Secondi Dopo Punizione Sotto Parere Comunque Come Attaccato Se Avesse Un po Di Velocità Non Sarebbe Malvagio O Vizzo 35 Un Upgrade Bello Sto Pacchetto Z Gigi Vai Ok Eletto Vasco Rossi Qui 83 4 Upgrade De Poi Vabbè Dai Ragazzi Non Mi La Mente Non Mente C'è Non Elementarmi Però Dite Che Sessere Minilamento Joachim Te Ricordi Questo Erri Giochino No Non me lo ricordo Ah Ok Ok E Barrica Transfer Te lo Ricordi Tati Quindi ragazzi Questo video Mi dice Quello Spero Vi sia Piaciuto Ah sì Una cosa Non Vi ho Detto Ragazzi Un Upgrade Che Ho Fatto Questa Estivana Ragazzi Ho Preso Marcolino Royce Headliners Quanto Ne L'ho Pagato 600 600 3000 Ho Venuto Averso Ci Ho Fatto Un profitto Di 100 K Da Quanto L'ho Pagato E Mi Sono Preso Appunto Marcolino Royce Ragazzi E' Un Erri Del Futuro Che Vi Parla Volevo Chiedervi Come Far Giocare Marco Royce E' Meglio Farlo Giocare In Game Con Un 4 3 1 2 Come Raggiungere 5 Mio Piace Per Il Prossimo Video Dei Premi In Iscrizione A casa Troverete I canali Di Questi Due Ragazzi Abbiamo Per I Premi Anche Sui Loro Canali Qui Ragazzi Mi piace Un bel Come Canale Noi Ci Becchiamo Ad Fammi pensare, fammi pensare Guardiamo lo stemmo a fu 19 Risultiamo? Si, 3, 2, 1 Si Ok